Giugno 1914, per la prima volta alla Casa Bianca, viene proiettato un film. Si tratta di una pellicola italiana, dirata da Giovanni Pastrone, e il titolo del film è Cabiria. Cabiria è un titolo fondamentale per quanto riguarda la storia del cinema. È un primo tentativo di codificazione di quello che è il linguaggio cinematografico. Vale la pena soffermarsi su quello che è il sottotitolo del film, ovvero visione storica del III secolo. Si tratta infatti quasi di un romanzo reso per immagini. Traeva spunto questa pellicola da due romanzi importanti come La Cartagena in fiamme del 1908 di Salgari e Salambo di Flaubert del 1862. All'interno del film si trovano sia episodi mitologici, sia episodi di storie che erano molto conosciuti all'epoca. Infatti troviamo l'eruzione dell'Etna, le guerre puniche, troviamo Annibale che valca le Alpi, l'assedio di Siracusa e la storia anche di Archimede. Il film è un vero e proprio colossa, nel senso che la durata originale era di 3500 metri. Dovete sapere che il cinema muto, l'unità di misura, era quello del metraggio della pellicola e 3500 metri corrispondeva quasi a tre ore di proiezione. La copia pervenutaci fino ai nostri giorni è della durata di circa due ore e venti e del film ne fu rieditata anche una copia sonorizzata con alcune scene aggiuntive nel 1931. Il film costò una cifra astronomica per l'epoca un milione di lire quando la produzione di un film onesto, insomma di buona fattura, all'epoca ne costava soltanto 50.000 lire. Il film è stato girato non soltanto in Italia e precisamente a Torino e sulla Dora, che all'epoca era la capitale del cinema, è stato girato anche in Algeria, in Tunisia e nelle Alpi. Il film è ideato e diretto da Giovanni Pastrone, che era anche il proprietario della casa di produzione Italafilma, che era una delle più potenti case di produzione torinese dell'epoca, che produceva i film di più svariati generi, dalle comiche al dramma mondano e al film storico, che proprio con Cabiria segna il suo successo a livello mondiale. E poi la fortuna del film avviene grazie anche a Gabriele D'Annunzio. Giovanni Pastrone fa quella che è per la prima volta un'opera quasi di merchandising cinematografica, di promozione. Siccome il cinema fino a quell'epoca era visto soltanto come un'arte minore di scarso valore, facendosi aiutare da D'Annunzio cerca di elevare il cinema a un'arte molto più importante. In delle lettere conservate al Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha una vastissima documentazione su questo film, ci sono proprio le lettere che si mandavano Pastrone e Gabriele D'Annunzio e in una di queste si legge proprio che il lavoro che dovrà fare D'Annunzio sarà di buon profitto con un minimo disturbo. Cioè Gabriele D'Annunzio viene appunto pagato per creare i nomi dei protagonisti e per creare quelle che sono le didascalie, proprio per dare questo senso più alto, di più gran valore alla pellicola. Le didascalie sono talmente alte e talmente belle che in alcuni casi Pastrone interviene e diciamo così le modifica, rendendole molto più accessibili alle persone che andavano appunto a leggerle durante la proiezione. Anche dal punto di vista musicale abbiamo un compositore celebre per l'epoca che è il De Brando Pizzetti che in un primo momento doveva lavorare a quella che era tutta la partitura musicale che accompagnava il film, in realtà ne fa soltanto una decina di minuti nella famosissima Sinfonia del Fuoco. E poi tutto il resto della partitura viene dato a un suo collaboratore perché anche lui non considerava il cinema un'arte importante. La prima viene viene fatta il 18 aprile del 1914 in contemporanea a Torino e anche a Milano e poi il film viene distribuito anche in Europa e anche in America tra cui Parigi e New York. La trama del film è abbastanza complicata. La pellicola inizia con l'eruzione dell'Etna e questa bambina di nome Cabiria che viene successivamente rapita dai Fenici. La sua nutrice cerca di salvarla grazie a una spia romana in missione a Cartagine, Fulvio, accompagnato dal suo fedele amico forzuto Maciste, che tentano di liberarla proprio dal sacrificio al dio Moloc. E poi la vicenda prosegue con appunto l'avanzare dell'età della protagonista. Una delle scene cult è proprio questa del tempio appunto dove c'è questa bambina che sta per essere sacrificata al dio Moloc, che è questa statua che trovate ancora oggi al Museo del cinema di Torino sul quale venivano gettati appunto questi fanciulli. È una scena mastodontica con più di 300 comparse e con delle importanti innovazioni. Intanto le scenografie diventano tridimensionali, non sono più piatte come nei cinema dei primordi, cioè dei semplici fondali, ma sono tridimensionali proprio per dare profondità, per creare delle ombre e delle luci. E poi c'è una cosa innovativa che è il carrello. Giovanni Pastrone brevetta appunto la cinepresa montata su una rotaia che si muove e segue i protagonisti che vanno al salvataggio appunto della piccola cabiria. Una curiosità, quando appunto Hitchcock arrivò a Torino a visitare il Museo del Cinema, disse che durante, quando lavorava appunto in Inghilterra, che aveva fatto diversi film durante la sua giovinezza in Inghilterra, il carrello veniva chiamato cabiria. Per cui il carrello cinematografico deve essere un altro grande vanto appunto del cinema, un'invenzione del cinema italiano. Grazie a tutti.